Radio Mare Vivi Pescara, live. Nell'Urban Box di Piazza della Rinascita per Radio Mare Vivi Pescara in compagnia dell'assessore ai grandi eventi del comune di Pescara, Alfredo Cremonese. Gran finale questa sera per la sesta edizione del Festival d'Annunziano con Stefano De Martino che sarà sicuramente mattatore della scena. Presentiamo l'evento, assessore. Sì, Paolo innanzitutto un ringraziamento a voi tutti per l'invito, sempre gradito. Come giustamente dicevi questa sera si conclude il Festival d'Annunziano con uno spettacolo al centro della nostra piazza principale dove ci sarà Stefano De Martino. Non devo presentarlo sicuramente io, conosciutissimo, showman, ballerino, è stato per tanti anni ad amici, quindi seguito da tantissimi ragazzi. Siamo contenti di questo spettacolo che chiuderà un festival davvero straordinario che ha fatto registrare come sempre migliaia e migliaia di presenze sul nostro territorio ma soprattutto che ha fatto parlare della nostra città sull'intero territorio nazionale. Che risposta di pubblico si aspetta Alfredo Cremonese questa sera per il gran finale del Festival d'Annunziano? Ma diciamo che noi quando organizziamo qualcosa appuntiamo sempre al massimo a vedere le piazze stracolme e devo dire che questo è stato il risultato di questi giorni del Festival d'Annunziano ma anche di tutti gli altri eventi che ci sono stati a Pescara. L'aurum era a stracolmo, qualsiasi spettacolo è stato organizzato, lo stadio del mare, piazza della rinascita, piazza primo maggio, piazza sacro cuore, cioè qualsiasi spettacolo è stato organizzato ha visto davvero una risposta importante da parte della città. Per sottolineare ancora che Pescara è una città effervescente, molto attenta alla cultura, è la città di Flaiano, la città di D'Annunzio e quindi noi siamo certi che continueremo su questa direzione e siamo anche certi della risposta dei pescaresi e dei tanti turisti che sono presenti sul territorio pescarese. La settimana d'Annunziana, vogliamo ricordarlo, è stata promossa dal Consiglio regionale d'Abruzzo e dal Comune di Pescara. È iniziata il 31 di agosto e si conclude l'8 settembre. Se volessimo fare un bilancio. Innanzitutto un ringraziamento al Presidente della Regione Marsilio, al Presidente del Consiglio regionale Sospiri per aver puntato su Pescara per il Festival D'Annunziano. Un bilancio assolutamente positivo, Pescara è protagonista da maggio fino a settembre sull'intero territorio nazionale per gli eventi. Pescara ha fatto parlare di sé, è andata sulle reti RAI, sulle reti Mediaset, abbiamo avuto Carton on the Bay che ha portato persone da tutte le parti del mondo per il Festival del Fumetto, ma abbiamo avuto anche il Premio Flaiano, il Pescara Jazz, Funambolica, il Wheel of Fest, il Festival Liberty, il Festival D'Annunziano, come dicevi tu, la Notte dei Serpenti che è stata trasmessa per la prima volta sulla RAI. Insomma, io credo che questa città abbia dato tantissimo sotto questo punto di vista, un grandissimo orgoglio quello che è stato fatto quest'estate, uno sforzo importante da parte della Regione, da parte del Comune di Pescara, però per noi questo non è uno sforzo perché noi puntiamo senza sé e senza ma sugli eventi che, come ho sempre detto, portano un'economia diretta per le tante persone che vengono sul territorio e che quindi spendono nelle nostre attività produttive, nei nostri bar, nei nostri ristoranti, ma quello che a noi più preme è il ritorno indiretto di queste manifestazioni, il ritorno culturale, il ritorno d'immagine per la nostra città e Pescara, proprio grazie a questi eventi, l'anno scorso, rispetto al 2019, ha avuto più 48% di presenze turistiche sul territorio. Pescara, città bandiera blu per il quarto anno consecutivo. Guardando al futuro, che cosa manca a questa città per essere ancora di più attrattiva, assessore Cremonese? Io penso che a questa città non manchi nulla, ma non lo dico per dire, questa città ha delle fortissime potenzialità che la possono portare a diventare davvero la città più importante della fascia triadica, una delle città più importanti d'Italia. Davvero abbiamo tutte le potenzialità. Questa amministrazione sta puntando proprio a stravolgere la città, la bandiera blu impensabile fino a qualche anno fa è uno degli obiettivi che ricordavi che noi abbiamo centrato e che continueremo a lavorare affinché questo possa sempre caratterizzare la città di Pescara. Ma noi abbiamo davvero stravolto la città di Pescara. Chiunque gira può vedere tantissimi cantieri che stanno trasformando la nostra città, che creano per l'amor del cielo qualche disagio, ma tra qualche anno sarà il vero tesoro della città di Pescara. Noi puntiamo senza sé, senza ma a cambiare questa città, lavorando ogni giorno affinché questo possa accadere. Queste le parole dell'assessore ai grandi eventi del comune di Pescara, Alfredo Cremonese, ospite della postazione dell'Urban Box di Radiomare Vivi Pescara. Poi chiaramente grazie a te Paolo, grazie a Giovanni per l'invito e permettetemi soltanto di ringraziare tutti coloro che quest'estate, mentre tanti si divertivano, hanno dovuto lavorare.